Ragazzuoli, prima che inizi questo magnifico video vi volevo ricordare che dal 4 all'8 settembre saremo a Napoli al centro sportivo Olli e Benji per fare l'ultima settimana del camp del pallone d'oro dei bambini. In questa settimana ci saranno tantissime attività e tantissimi influencer che ci verranno a trovare e faremo lì in diretta il super pallone d'oro tra me e Sergio Cruz, ragazzi. Mi raccomando, link in descrizione per iscrivervi e compilare il form per partecipare ai nostri camp e ci vediamo tutti quanti a Napoli. E adesso diamo inizio a questo splendido Tedesca Challenge. Let's go! Benvenuti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, ma soprattutto benvenuti in una splendida Tedesca Challenge! Allora ragazzi, siamo qui! Siamo qui tutti in gamba! Ragazzi, io mi dissocio, ci vogliamo tutti bene, poi soprattutto vogliamo bene a Marco Antonini, che ho...questo oggi nuovamente per la sua... Eh, oggi sì, sono... L'ho acquisto! Mi sono infiltrato tanto occupo anche poco spazio, nello sfogliatoio, quindi... Però ci va così, vediamo così! Se fossero in tanti su YouTube... Potremmo fare un pallone d'oro un po' particolare! Potresti partecipare anche a questo pallone d'oro! detto questo ragazzi tantissimi ospiti quest'oggi a partire dalla mia sinistra Fabio Di Mauro per la prima volta partecipare a un mio video su Youtube abbiamo Gnabri, Sofia, la ragazza di Gnabri Timone Pecchini, portiamo il report di YouTube Italia non sto scherzando, non parla tanto Sergio Cruz Pereira signori e signori il l'ex pallone d'oro di TikTok Italia vabbè ragazzi l'abbiamo già presentato, lo ripresentiamo Isaac Shaw e abbiamo la new entry la ex del più pega nooo perché in questo video è la mia donna nooo e vabbè lo splendido bene il portiere parte da 7 tutti gli altri 5 perché sono in tantissimi e come sempre l'ultimo che ho toccato la testa vai in porta parto io, parto io parto io ok signori siamo già tutti in posizione partirà Simone Pecchini in porta perché è arrivato per ultimo non si sa perché ma è arrivato per ultimo ragazzi guarda chi c'è sta, erpi pega le regole sono quelle della tedesca solita bisogna calciare solo, solamente al volo gol di rovesciata vale 2 e a un punto c'è la maiala che cos'è la maiala? lo scoprirete e allora partiamo vai Simone è buona primo gol Simone a 6 mi raccomando ragazzi ne mettevi i pughi è di porta ragazzi chi gol complimenti grazie 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 è rovescia la bp la lulitz vai lulitz vai lulitz grazie vai grazie 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 dopo una spirza di gol Simone esce la caca la caca che accadrebbe se per una ragione a noi sconosciuta qualcuno sbloccasse il 100% delle sue capacità cerebrali ha detto il 100% si dentro l'aria no è porta grazie eccolo bravo 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 se no parla tanto vai gol vai gol vai gol vai gol mamma mia stiamo a stata Isaac ma in che mondo poteva entrare sto pallone vai vai alzo bonus ma che culo oh vabbè vieni 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 tu 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 vai vediamo vediamo sfidalo bravo è brutto prendere gol da un disabile tira tira oh via 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 oh 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 dio mio questa tappa Isaac ha uno basta un gol e poi lo salutiamo ciao ciao quando cerchi di colpire il tuo nemico a volte ti si ti ritorci pure contro oh oh due due tu ha tu ha e ha oh oh e Sergio subito 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 via via un altro se no parla tanto eh oggi sono uscito ragazzi purtroppo va così se no parla tanto due eliminati signori e allora torna Pepe in porta perché è quello che ha meno di tutti vieni qua che devo fare vai la rovescia la play ancora rovesciala si ora si si ancora eccola nooo no ho detto le palle infatti a cazzola eccolo oh 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 oddio si vabbè ci sta ci sta godo la ex del pippega subito però oh la cazzina così no però non sei un vero uomo no 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 sono antipatico perché vinco sei un vero uomo così impari a mollarmi così impari a mollarmi diventa oh 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 Mamma mia Marco Antoglini signori Ma cosa c'hai la colla? Non lo so, sei meme di Spiderman, non lo so Oddio, ha buttato la giocata Ha buttato la palla mia sorella Dai subito, dai, mi stiamo a buttare giù, va Uno Questo è il mio uomo Che gol A base a due o tre Vai, tocca a te Oddio Va bene, va bene 30 Bravote, bravote No Fabio in forno Adesso Fabio sprendi il volo Oddio Sono a maiala No, io sono a due raga L'unico modo per eliminarlo senza maiala E' che anima si elimina Bello Bellissimo Mamma mia che rovesciata Attenzione Lancia Lancia Vai cagare Aiala Aiala Tre 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 Bravo Bravo Due Due Bravo Bravo In bordo In bordo Certo Tre No 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 Perché è questa scelta? Bordo Ehi Tre Prima volta Prima volta E qui ci divertiamo ragazzi Bello Che paratafato Wow Dai Sofi Vai Sofi Fa vedere Fa vedere Olè Porca miseria Pumba 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 Trove Tre Anche a me No Eh va bene Tre Due Vai Sofi Eccola Basta adesso eliminiamola Sofi Mi son rotto Mi son rotto Basta Riminiamola Metti che non ce la fai Due Alzamela Alzamela SEME ALZAMELA Porca puttana Ci Bene Sono eliminato Io sono tutta la più grande Ma l'alto Oh A barma Sergio Non era mai andato in porta Sergio non era mai andato in porta E quindi eliminate Sergio per me Bello Non è così Non ti fa male Sì Pierino Stavo già andando di là Ragazzi Luli in porta Sarà arrivato il momento di Luli Il po' dentro l'abbiamo già fatto Tre Tre Stimo Pierra Fabio Fabio Mamma mia che parata ha fatto Bello Uno Passarda Passarda Tre Sembra che stai trottando l'anni in un prato di fiori Heidi Oh Mamma mia E chi se non lui Viene eliminata Oh 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 Che gol ha fatto Incredibile Pippe Sergio a uno Può essere eliminato Aia Gol La palla entra E Sergio viene eliminato E Sergio ci saluta così Ottima Ottima scelta Di Aspetta Allora signori siamo rimasti in 5 partecipanti ancora Simone in gioco con Tre punti Fabio Tre punti Tre punti Due punti Due punti Signori Adesso Aggiungiamo che Una volta arrivati a zero Bisognerà calciare il rigore Quindi chi farà gol dovrà calciare il rigore Per eliminare definitivamente l'avversario Dai Dai Cioccolato Vai Bravo Regala Stop E ma io come cazzo salto che c'è una gamma E va lui Ancora la passata Oh L'ha presa al volo Esce dalla porta signori Attenzione Eccola là ragazzi Bello Attenzione Alta Marco Si spega Fabio Uno Stop Uno Due Tre Eccola Buona Buona Fabio Attenzione Eccola Mi spega Bravo Bego Attenzione Si 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 Bello Bellissima azione Mamma mia Attenzione Mamma mia Attenzione Mamma mia Adesso deve canciare il rigore Bro Non mi interessa niente Bro Non mi interessa niente Però lui c'ha due braccia E quindi C'ha due gambe E tu Hai la forza di volontà Che vale Due Tre, quattro, cinque gambe Gioro 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 E tu Hai la forza di volontà Mamma mia Mamma mia Mamma mia Signori E va in porta Wow Signori Comunque vada Applauso Applauso Oh questa non va a fare neanche Gigi Questo è un signor rigore Facciamo i complimenti a Lollo Meritavi Peccato che hai subito troppi gol L'importante è che l'ha vinto Sergi 3-3-2 Mamma mia Ragazzi Sì 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 Rigore Oh eliminare Di piegatura Caccia al tuo miglior rigore C'era arrivato Stava per prendere E allora signori Si deciderà tutto Ai calci di rigore Diamo i meriti E i complimenti Ai due finalisti Questa magnifica tedesca Grazie Un piacere Sare arrivato qui con te in finale Con loro che hanno subito Meno gol signori Fabio Di Mauro E Pierino Allora Tre rigori a testa Vi altenerete in porta E vediamo Chi ne parlerà di più O chi ne segnerà di più Tre rigori Let's go E allora Primo rigore Primo rigore Fabio in porta Fabio in porta Dentro Dentro La para Ma non basta Che buccia di culo raga Questo potrebbe essere un segnale Fabio Da lui Bello Secondo rigore E quando è di forza dritta Quando è di forza dritta Dimmi che solo una cosa E' esterno Magico Fabio Mauro E' esterno di guarda Cinico 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 E' esterno di forza dritta E' esterno di forza dritta E' esterno di forza dritta Ragazzi Mamma mia Wow Ragazzi Non sembra Ma c'è ansia Ma c'è tensione Nell'aria Parte Pierino Maglia E' qui non devi avere pietà però Fabio contro Pierino Fabio contro Pierino Fabio Mette il punto E vince Definitivamente Questa tedesca Challenge Signori E quindi signori Mi raccomando Seguite tutti i ragazzi Che hanno partecipato Sui loro profili social Instagram Youtube TikTok Pornhub E noi ci vediamo Nell'altro magnifico video Sempre qui Dall'MSP è tutto Sì nella prossima video Ciao